Un vero e proprio villaggio, completamente gratuito, dedicato agli sport da strada. Ritorna a Salerno per il quinto anno Beats Festival Basket in the Street, con sua etnizzativa promossa dall'omonima associazione d'intesa con il Comune Capoluogo e la Regione Campania. Non soltanto basket, comunque con un torneo nazionale 3 conto 3 come tappa dello Street Ball Italian Tour, sport che diventerà disciplina olimpica nel 2020, ma anche skate, roller, bici BMX, calcio ed anche beach volley, vera novità di quest'anno. Previsti anche momenti gastronomici e formativi. Quest'anno abbiamo voluto integrare un po' le attività della manifestazione perché abbiamo sempre più richieste, sempre più visitatori, quindi ogni anno cerchiamo di dare sempre un contributo maggiore rispetto a quella che è l'offerta che diamo ai visitatori. Abbiamo voluto aggiungere il beach volley che è una novità di quest'anno, abbiamo voluto aggiungere anche una parte diciamo strettamente culturale, quindi dei workshop formativi grazie alla collaborazione con l'assessorato, alla formazione delle varie opportunità della Regione Campania, quindi ogni anno cerchiamo di evolverci, di andare avanti e di fare nuovi investimenti per dare di più a questa città. Un vero e proprio villaggio insomma nello sport da strada, insomma dall'11 in poi a Salerno. Un vero e proprio villaggio ma la cosa che mi piace sottolineare è che è un vero e proprio villaggio sportivo, culturale, gastronomico, musicale gratuito. C'è uno spazio, un festival totalmente gratuito dove ovviamente chi vuole, il visitatore che vuole venire può tranquillamente soffrire tutti i servizi in totale autonomia, in totale gratuità. Grazie a tutti.